Al via lunedì i festeggiamenti in onore di San Calogero, cosa prevedono? Allora, lunedì prevedono già la celebrazione dei primi Vespri, Vespri Solenne, che sono preseduti da, non lo so, Ciprete, Padre Lobù e Padre Carmelo. Però da lunedì sera, incomincia già per i Sacensi, il giorno del voto, che annualmente, il martedì dopo Pentecoste, viene celebrato, partendo alle sei dalla Chiesa Madre, percorrendo tutta la strada automobilistica, qualcuno fa il vecchio pellegrinaggio, e il giorno del voto, del voto, liturgia penitenziale, di Sala 1578. Ecco, è un'antica tradizione dei padri, che ha visto sempre una presenza costante in tutti i Sacensi, e non soltanto i Sacensi, ma anche nel circondario. Domenica scorsa sono venuti anche quelli di Caltabellotta per sciogliere il voto a San Calogero. E da lunedì sera, fino a tarda ore, direi anche tutta la notte, chi l'indomane deve andare a lavorare, scioglie il voto, sin dal giorno prima. Il giorno, poi chiamiamola della festa, del martedì, è previsto, oltre al pellegrinaggio che parte alle sei, dalla Chiesa Madre, all'arrivo la messa per i pellegrini, che hanno fatto il voto, alle 11, con la messa per i bambini all'affidamento a Santo Taumaturgo, e poi nel pomeriggio altre celebrazioni, sino alle 19, che ci sarà la messa solenne. Subito dopo la messa solenne, faremo una piccola processione costantissima in queste vie adiacenti alla Basilica, e così accogliamo i pellegrini che continuano con la preghiera, e poi è previsto per le 21 e 30 l'arrivo del pellegrinaggio dei giovani, che parte dalla Chiesa del Sacro Cuore alle 19 e 30. Quindi all'arrivo poi ci sarà la celebrazione delle Eucaristie e concluderemo così questa festa solenne in onore di San Calogeno. Com'è bene approcciarsi a questi festeggiamenti? Ebbè, approcciarsi con la celebrazione che faremo anche da questa sera a livello cittadino con la Veglia di Pentecoste. E quindi il giorno di Pentecoste, che è un giorno solenne per tutta la Chiesa, apre il cuore all'azione di Dio e quindi a rivivere nuovamente gli impegni del Battesimo, imitando sempre qualcuno che ha fatto l'esperienza, l'esperienza della preghiera, l'esperienza anche del silenzio. E qui a San Calogero c'è tanto silenzio. Calogero c'è di esempio nel modo di pregare, nel modo di contemplare, ecco, il valore anche della grotta, il perché Calogero abitava nella grotta, cioè nel silenzio. Previsto quest'anno anche un piccolo rinfresco per i pellegrini? Eh, rinfresco non diremmo. Un gesto di condivisione dopo aver fatto il pellegrinaggio a piedi, quindi anche le forze vengono in meno, i collaboratori parrocchiali anche della Caritas hanno pensato di offrire i prodotti del nostro luogo, accompagnato con un bocconcino di panino, qualcosa di gradevole con un po' d'acqua, ma niente di rinfresco, solamente un atto di condivisione fraterna.